De Sota, un miglio per tre anni, sette concorrenti alla via, il favorito in questo momento è Serenopi, 1.93, 2.18 su Fiaz, match stretto con Sharada V nel ruolo di terzo incomodo, allineamento che si va a completare su Zidari, Rolando Lorito, Sharada V, Federico Espogito, Selly Brown, Edoardo Baldi, Sbiru Lino Grado, Roberto Andrietti, Serenopi, Edoardo Moni, su Fiaz, Enrico Bellei, Soleado, Giuseppe, Lombardo Junior e la macchina che stacca in questo istante. È velocissima, so Fiaz che in breve prende l'iniziativa, ha sbagliato Sbirulino, Sharada in seconda posizione, davanti a Selly Brown, Serenopi all'esterno, poi su Zidari, Soleado, Insegue, Sbirulino. Lancio in 13.6, Fiaz batti strada all'imbocco della prima curva davanti a Sharada, poi Selly Brown, Sereno al largo, i 400 di Fiaz in 28.7, tiene ritmo piuttosto selettivo la Saura da Ganymede, che completa la prima curva dal leader e affronta anche la retta opposta alle tribune su Sharada B, Selly Brown, Sereno al largo, 600 in 44, scarso, io ho 43.8 sul cronometro. Con Sereno che cerca di guadagnare al largo e Sofiaz che va via su ritmi ancora molto impegnativi, 800 iniziali, in 58.7, 14.9 l'ultima frazione della Bionda. Sereno si avvicina, in corda Sharada che perde un po' contatto all'imbocco della curva conclusiva, Sofiaz alla corda, Sereno che la mette sotto tiro. Siamo al chilometro in 1.13, Sofiaz al comando, Sereno li ha ridosso, più indietro Sharada, poi Selly sopravanzata da Soleado. Sofiaz alla corda, 400 dal palo, Sereno che non molla, 1.27.6, tre quarti di miglio sul mio cronometro, la retta di arrivo, Sofiaz allo steccato, Sereno che insiste nell'offensiva, Sereno attacca, Sofiaz cerca la difesa, Sereno sembra poter passare su Sofiaz, anzi è passato, Sereno oppi su Sofiaz, Sereno oppi che passa in chiara evidenza e va a vincere di forza, gran prestazione, grande conferma per il portacolori di un entusiasta Stefano Paladini. Sofiaz al secondo, Sharada B al terzo posto, 1.57.2, 13.3, 13.4 potrebbe essere la media al chilometro, Sereno P vince veramente una grande corsa. La terza vittoria nelle ultime quattro uscite per il figlio di Framabov, la quota 1.89, Sereno P, Edoardo Moni, il team Moni e i colori della scuderia Coni.